Xi stringe a sé Putin, Putin stringe la presa sull'Ucraina, si restringe o forse evapora la speranza occidentale di una qualche distanza tra Russia e Cina. Il boss del Cremlino prosegue la visita nel Celeste Impero facendo tappa ad Arbin. Nella città cinese al confine con la Russia rende omaggio ai soldati sovietici caduti nella liberazione della Cina nord-orientale dall'occupazione giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi si concentra sugli affari. All'Expo di Arbin, in compagnia di un manipolo di oligarchi, rilancia il commercio tra i due paesi che l'anno scorso ha toccato la cifra record di 240 miliardi di dollari. Energia, auto e agroindustria i settori rilevanti di una cooperazione economica, culturale e politica più salda che mai. Anche perché nessuno, né in Russia né in Cina, può azzardarsi a discutere le scelte del Capo Supremo. Mentre in Occidente un po' di dialettica c'è. Zelensky è irritato con l'alleato americano che gli mette paletti. Le nostre armi dovete usarle solo in territorio ucraino, avverte il Pentagono. I nostri partner hanno paura che la Russia perda questa guerra. Vorrebbero che l'Ucraina vincesse senza che la Russia perdesse, ma non è così che funziona, ribatte il presidente ucraino, che chiede armi per contrastare l'offensiva dei russi su Kharkiv. Ma i nostri li hanno fermati, non sono avanzati più di 10 chilometri, precisa Zelensky. Mentre i suoi lanciano un centinaio di droni su diverse regioni russe, quasi tutti intercettati.